Apparentemente in inverno il baseball è fermo, non però dal punto di vista del mercato, di conseguenza nella free agency più pazza di sempre, che probabilmente sposterà più gli equilibri della prossima stagione, arriva il consueto recap di inizio stagione, per cui con molto anticipo, causa anche impegni per via del World Baseball Classic e della regular season che partirà comunque in primavera, anticipiamo l'analisi della free agency a MLB 2023 in una classifica che appunto comprende i migliori 15 colpi di mercato di questa off-season, il cui grosso praticamente è finito con le prime tre posizioni di fatto di questa classifica, però ovviamente per arrivare a questa free agency dobbiamo partire dall'inizio. E l'inizio è evidentemente la fine dell'anno scorso, ovvero la vittoria degli Houston Astros per il secondo titolo della loro storia contro i Philadelphia Phillies al termine di una serie di finale molto bella, vinta da Houston per quattro partite a due e questa classifica parte dai due campioni del mondo che si sono spostati, che magari non sono dei nomi di grido come vedremo nelle posizioni che contano di questa platonica classifica, ma sono comunque due giocatori molto utili che appunto da campioni del mondo con gli Houston Astros si spostano uno in American League e l'altro in National League. Dunque in questa quindicesima posizione virtuale di questa classifica troviamo Christian Vasquez che è stato uno degli acquisti di mercato della sessione estiva dello scorso anno, è stato uno storico catcher dei Boston Red Sox, è andato a vincere il titolo a Houston e poi ha accettato l'offerta dei Minnesota Twins, una squadra che sta comunque completando il percorso di crescita. Il portoricano è un giocatore esperto, è un classe 1990 e ha firmato un contratto pluriannale per la cifra complessiva di 30 milioni per la formazione dei Twins che comunque si è ben rinforzata anche se il colpo vero e proprio non è ovviamente Vasquez ma è un altro di cui parleremo dopo. L'acquisto di Vasquez per i Minnesota Twins è sicuramente positivo perché il catcher portoricano non solo è molto bravo nella componente difensiva ma è anche un fattore dal punto di vista offensivo, sicuramente più magari della media dei catcher di questa MLB. Vediamo qui le statistiche dell'anno scorso, parliamo infatti di un giocatore che nella regular season ha fatto nel complessivo 274 di media battuta, 9 fuori campo, 52 RBI che ripeto per un catcher non sono pochi. Certo non parliamo di un catcher al top dal punto di vista offensivo come GT Real Muto che è il migliore nel suo ruolo da quel punto di vista ma ripeto è un acquisto molto funzionale che dunque merita questa posizione nella classifica per quanto appunto platonica, parliamo della quindicesima. La quattordicesima posizione invece di questa classifica è occupata da Trey Mancini dovrei dire perché l'Italo americano è stato appunto convocato dalla nazionale italiana per il World Baseball Classic e Mancini sappiamo che appunto è un campione del mondo. Lui ha avuto una storia particolarissima, ha fatto una vita nei Baltimore Orioles, è andato a Houston, anche lui ha vinto il titolo seppur da comprimario e non da protagonista anche se va detto una sua giocata difensiva in prima base. Ha evidentemente indirizzato in parte il titolo degli Houston Astros però appunto Mancini non era appunto inserito appieno nel sistema di Dusty Baker e compagni. Di conseguenza ha firmato un contratto biennale per una cifra comprensiva di 14 milioni di dollari per i Chicago Cubs, squadra che in alcuni contesti potrebbe essere definita in tanking puro. Il tanking negli sport americani è semplicemente una squadra che perde molte partite in modo da giudicarsi la prima scelta al draft. Nella MLB è un po' più complicato però comunque i Chicago Cubs diciamo che sono in rifondazione da diversi anni. Il core della squadra del 2016 non è più presente, è stato smantellato tutti quelli che hanno vinto il titolo nella fantastica serie di finale contro i Cleveland Indians e comunque ci vogliono i giocatori di esperienza che possono fare secondo me il nuovo core dei nuovi Chicago Cubs. Uno è sicuramente tra i Mancini, l'altro è un interbasso di cui parleremo delle posizioni più alte della classifica. Sono comunque nomi importanti per squadre che devono comunque riscattarsi come per esempio i Milwaukee Brewers che effettuano un colpo sull'esterno assolutamente interessante perché Jesse Winker passa dai Seattle Mariners appunto ai Milwaukee Brewers squadra che deve comunque rinforzare il reparto esterno dopo le altalenanti prestazioni di Christian Jelic dello scorso anno. Si assicura le prestazioni di Winker che ripeto non è più magari quello di due stagioni fa dove con i sindati Reds di fatto portò la formazione dell'Ohio ha una stagione più che dignitosa con i 30 e passa fuoricampo, è un giocatore comunque di sistema che può essere utile e assolutamente a Milwaukee serve un esterno di qualità anche per dare un ricambio a Jelic che comunque ha avuto degli infortuni magari è più incostante o lo è stato quantomeno all'anno scorso, è un acquisto anche lui di sistema. Certo non è magari un nome che sposta gli equilibri, è un contratto annuale quello firmato da Winker per i Milwaukee Brewers parliamo di 8 milioni per il 2023, comunque assicurarsi le prestazioni di un fuoricampista per i Brewers sicuramente è molto interessante certo non è un nome che sposta gli equilibri ma comunque è un colpo assolutamente interessante così come è interessante il primo colpo del New York Mets di cui parleremo oggi ed è un international free agent praticamente quello di cui stiamo parlando in questo momento ed è il giapponese Kodai Senga che appunto a 30 anni sbarca in MLB è stato uno dei giocatori più importanti della Lega giapponese dello scorso anno dopo una vita passata nella squadra di Fukuoka è appunto sbarcato oltreoceano e appunto in una squadra come i New York Mets che vedremo hanno ampliato e non poco la rotazione per quanto abbiano avuto una perdita molto dolorosa ma lì ovviamente ci arriveremo Kodai Senga è un giocatore giapponese di 30 anni pagato 75 milioni per il contratto quinquennale è evidente come oltre Max Scherzer e di un altro colpo di cui parleremo più avanti Kodai Senga sia palesemente il terzo della rotazione e se Steve Konek e compagnia vogliono creare la rotazione delle tre superstar di cui due molto affermate e una ancora in divenire ma comunque Senga in Giappone è di fatto una superstar attenzione perché New York Mets possono comunque rimediare alla prima posizione di questa classifica ma ovviamente chi segue il baseball sa perfettamente chi saranno nelle prime due posizioni di questa classifica soprattutto alla numero uno sono curioso di vedere Senga ovviamente il passaggio la lega giapponese a lega americana è magari non dico più semplice perché non è corretto ma comunque meno difficoltoso rispetto ad altre leghe sappiamo che dopo il baseball americano il baseball giapponese è molto probabilmente quello di più alto livello se la gioca col baseball caraibico in particolare il dominicano però la lega giapponese abbiamo visto come abbia prodotto talenti a più non posso vedi per esempio gli ultimi giochi olimpici dove evidentemente la formazione presentata per l'oro olimpico era quella proprio della NPB quindi Senga se le premesse sono queste può fare assolutamente bene ai New York Mets così come vi aspetto grandi cose da quest'altro giocatore che ripeto non sarà un nome altisonante ma comunque Luis Arraes ha avuto il merito di non far vincere la triple corona a dare un judge lo scorso anno perché con 316 di media battuta il giocatore venezolano classe 1997 è stato il migliore da questo punto di vista la media battuta per chi non conoscesse il gioco del baseball è semplicemente quando un giocatore ottiene una battuta valida che sia un singolo, un doppio, un triplo o un fuoricampo sostanzialmente quando non viene eliminato a meno che non si parli di colpito o base per ball fatto sta che Arraes dopo una stagione ai Minnesota Twins in uno scambio finisce ai Miami Marlins squadra comunque interessante i Miami Marlins acquisiscono le presenze di questa prima base che in realtà è più un utile di play può giocare anche battitore disegnato terza base ci sarebbe anche ruolo di seconda base ma a Miami sappiamo che c'è la superstar Just Chisolm il Bahamans, apro parentesi, è sulla copertina di MVD Show 23 gioco che prenderò assolutamente senza problemi Arraes è un giocatore di contatto che però può essere un ottimo leadoff per Miami e un buon perno su cui costruire la squadra appunto insieme al Bahamans, Chisolm e anche alla superstar Sandy Alcantara lo scambio peraltro è avvenuto con un lanciatore perché Pablo Lopez, giocatore appunto fino a questa stagione dei Miami Marlins è andato ai Minnesota Twins che comunque si sono assolutamente rinforzati così come si sono rinforzati anche Seattle Mariners con un colpo che a me interessa tantissimo perché Teoscar Hernandez dopo una vita ai Toronto Blue Jays passa appunto nello stato di Washington con un contratto biennale a 20 milioni Teoscar Hernandez è un esterno tendenzialmente gioca a destra ed è uno dei battitori che a me piace molto non solo per il nome fantascientifico ma perché tecnicamente è un signor giocatore è più un attaccante che un difensore, questo va detto ma comunque è vero che i Mariners hanno perso Winker ma si sono secondo me potenziati meglio Winker, Frazier e altri esterni, Eniger, non sono probabilmente a livello di Teoscar Hernandez che può fare secondo me il salto di qualità per questi Mariners è vero Teoscar Hernandez è un trentenne, è un giocatore esperto ma sono quei giocatori come abbiamo visto in altri casi di questa classifica di sistema giocatori che possono tranquillamente dare il contributo Ed Hernandez è un giocatore di sistema di primo livello a mio modo di vedere non è magari il nome della incredibile superstar ma in questa formazione con Julio Rodriguez al fianco e tutto il core giovane di Seattle Mariners, giocatore esperto, forte, serve quindi se l'anno scorso dicevo attenzione ai Seattle Mariners attenzione anche quest'anno alla formazione di Scotservé perché può assolutamente fare il salto di qualità lo ha fatto già l'anno scorso ma mi aspetto grandi cose in questo 2023 ma ovviamente la stagione non è neanche iniziata parliamo di free agency sono pronto a essere smentito come ogni anno praticamente quando faccio i pronostici della mia regular season fatta questa prima carrellata passiamo adesso alla parte succosa al core di questa classifica perché finora abbiamo parlato di giocatori di sistema o international free agency adesso parliamo di giocatori di grido ed è questo infatti il motivo per cui la free agency 2023 a modo di vedere è una delle più clamorose e che possa spostare gli equilibri perché tranne un nome di questa classifica tutti questi grandi giocatori si sono spostati dalle loro rispettive franchigie e il primo colpo è un colpo a sorpresa perché Justin Turner alla venerante età di 38 anni torna o meglio passa da ovest a est e va dai Los Angeles Dodgers ai Boston Red Sox sappiamo che Turner è stato uno dei cardini uno degli uomini simbolo dei Los Angeles Dodgers soprattutto di quelli che hanno vinto il titolo nel 2020 nella stagione corta è un giocatore che ha fatto molto bene fino all'anno scorso l'anno scorso ha sottoperformato parliamo di un giocatore che aveva 278 di media battuta 13 fuoricampo e 81 RBI ma comunque a 38 anni ci sta che comunque vengano scelti altri lidi per quanto riguarda Turner che comunque va ai Boston Red Sox che hanno riconfermato Rafael Devers ma hanno perso il giocatore che seguirà Justin Turner scusatemi ma hanno perso il giocatore che seguirà Justin Turner in questa speciale classifica è comunque un colpo sia di sistema ma sia di grande nome Justin Turner è un giocatore che mi piace tantissimo e sono chiuso di vederlo in questi Boston Red Sox che devono assolutamente riscattarsi dalla tremenda stagione scorsa dove addirittura sono stati passati dai Baltimore Orioles che era data da tutti gli esperti e non come palesemente la ultima della AL East cosa che invece è capitata a Boston nonostante il ritorno di Alex Cora il manager che ha vinto il titolo nel 2018 è un buon colpo è quello di Justin Turner che però appunto va a cautelare o a riparare un grosso colpo al contrario però per i Boston Red Sox perché una delle più grandi periti in questa free agency è il passaggio di Sander Bogers da Boston a San Diego con un contratto faraonico perché parliamo di 280 milioni per 11 anni il primo macro contratto di questa speciale classifica è per il giocatore di Aruba Olanda lo vedremo al World Baseball Classic nel nostro girone a proposito giocatore clamoroso Bogers è stato cresciuto dai Boston Red Sox ha fatto letteralmente una vita lì a partire dal 2013 e adesso va ai San Diego Padres attenzione perché sappiamo perfettamente che il giocatore olandese è un interbase fino all'anno scorso in interbase nei San Diego Padres c'era Fernando Tatis Jr che è stato squalificato per doping anche per parte di questa stagione e quindi non solo il colpo secondo me dei San Diego Padres è quello di cautelarsi rispetto alla squalifica di Fernando Tatis Jr ma è anche quello secondo me di mettere Tatis Jr sulla graticola non mi sorprenderei di vedere una firma una trade magari non in questa fridgesi perché forse ci sono troppi soldi sul tavolo ancora ma magari se Statis rientrasse non giocasse o rendesse molto meno rispetto al potenziale dell'atleta non mi sorprenderei appunto a vedere una trade nella parte estiva del mercato e chissà perché è vero che Tatis è quello che è dal punto di vista caratteriale e appunto anche comportamenti extra campo vedi appunto per esempio la squalifica per doping ma è un giocatore che se è tutto a posto se non è infortunato ha un talento che secondo me è secondo a pochi e può far comodo veramente a chiunque ma Bogert è un colpo incredibile perché appunto ha un duplice significato sia di campo sia extra campo per la questione Tatis parliamo comunque di un giocatore che è vero l'anno scorso ha fatto una stagione interessante e solida 307 di media battuta 15 ombra 73 RBI per l'olandese sono curioso di vedere come approccerà il World Race World Classic e anche questa nuova avventura ai Padres un contratto faraonico di 11 anni primo grande contratto di questa speciale classifica e da qui in poi saranno tutti così a partire anche dal prossimo colpo perché parliamo di Dunsby Swanson che è stato l'artefice del titolo dei Braves quando appunto vinsero contro gli Houston Astros però anche per Dunsby Swanson l'avventura ad Atlanta si è conclusa Atlanta che dopo aver ceguito Freddie Freeman lo scorso anno in un colpo clamoroso ai Los Angeles Dodgers cede anche un di loro interbase titolare appunto Dunsby Swanson uno dei giocatori franchigia dei Braves fu scelto come prima scelta assoluta al draft e adesso va a rinforzare i Chicago Cubs Swanson e Mancini che abbiamo parlato poco fa saranno secondo me il core del futuro di una squadra che tenesalmente è giovane non mi aspetto molto va detto dai Cubs ma è evidente come la formazione del Illinois si sia cautelata con un grande investimento perché per Swanson parliamo di un contratto di 7 anni per 175 milioni di dollari insomma non proprio 2 lire per un giocatore che comunque ti può garantire un attacco solido ma ancor di più una difesa incredibile Swanson è un giocatore completo e sarà molto importante avere l'Inter base forte in una squadra che deve rifondarsi perché evidentemente che per il futuro il 7 sarà sicuramente il cardine il go to guy dei nuovi Chicago Cubs che tempo fa avevano Schwarber Rizzo Baez eccetera chissà che Swanson possa essere il primo pilastro dei nuovi Chicago Cubs per un giocatore che l'anno scorso appunto ha fatto 25 fuori campo di certo non bruscolini passiamo adesso da un'altra squadra di New York quella dei New York Yankees abbiamo parlato accennato meglio ai Mets che torneranno per potenti a fine classifica ma abbiamo parlato anche della squadra più titolata ancora in questo podcast della MLB e parliamo appunto degli Yankees che hanno fatto dei colpi interessanti a partire dall'acquisizione di Carlos Rodon lanciatore trentenne della Florida che l'anno scorso era ai Giants e ha fatto una solita stagione parliamo di 14 vittorie e 8 sconfitte media di 2,88 il problema dell'anno scorso di Rodon è che praticamente predicava nel deserto i Giants hanno fatto una figura magrissima e non sono arrivati nemmeno ai playoff e Rodon giustamente anziché per il grande deserto ha scelto la nuova avventura ai New York Yankees se parlavamo della rotazione dei Mets come forte quella degli Yankees è assolutamente competitiva e forse anche più forte perché abbiamo soprattutto Garrett Cole e adesso Carlos Rodon con un 1-2 molto ma molto interessante lasciamo perdere poi anche il parco rilievi che comunque è molto solito con Hughes Chad Green e compagnia non c'è più Roddy Chapp anche andato ai Kansas City Royals però abbiamo un parco partenti parecchio interessante se ritorna Severino se ritornano anche altri giocatori che hanno fatto prestazioni altalenanti o si conferma per esempio Nestor Cortez allora attenzione perché gli Yankees sono da corsa anche quest'anno Rodon nello specifico ha firmato anche lui un contratto di 7 anni esattamente come Dan Smith Swanson prende però leggermente meno parliamo di 166 milioni in questo totale di contratto certo al confondo del contratto di cui andremo a parlare tra poco sono letteralmente due lire perché rimaniamo in casa Yankees e arriviamo in questa platonica quinta posizione di questa classifica perché Aaron Judge dopo tanti rumor dopo tante voci ha deciso di rimanere ai New York Yankees con un contratto faraonico degno secondo me del campione che è il giocatore della California classe 1992 Aaron Judge sarà appunto il diciottesimo capitano della storia dei New York Yankees a queste cifre un contratto totale di 360 milioni per nove anni quindi i conti sono molto facili da fare ma sono soldi meritati Judge è uscito dal contratto l'anno scorso è andato in Frejancy non prendeva evidentemente questi soldi ha cercato comunque di rimanere nella franchigia che lo ha reso grande perché ricordiamo che all'esordio contro i Tampa Bay Rays Aaron Judge fece fuoricampo al primo turno di battuta l'anno scorso di fuoricampo invece ne ha fatti 62 battendo il record di Roger Maris peraltro narrato in un bellissimo film chiamato appunto 61 che appunto racconta il sessantonesimo fuoricampo e il raggiungimento del record di Roger Maris che appunto non cadeva dal 1961 quindi quello che abbiamo visto l'anno scorso è stato qualcosa di incredibile e solo per quello Judge ha meritato la riconferma ma non solo parliamo di un giocatore completo Judge è un giocatore di football americano prestato al baseball in esterno destro e anche centro molto molto forte soprattutto dal punto di vista difensivo dal punto di vista offensivo ha fatto tantissimo in regola l'anno scorso ed è probabilmente ancora oggi uno dei migliori secondo me dieci attaccanti del circuito va detto però che in possesso l'anno scorso è mancato e forse anche per quello gli Yankees hanno un po' dovuto cedere agli avversari nella corsa ai playoff dello scorso anno però Judge appunto merita questa riconferma e dunque attenzione perché come ho detto per Rodon gli Yankees con questo Judge rinnovato sono da corsa anche quest'anno abbiamo parlato tempo fa in questo inizio classifica dei campioni del mondo degli Houston Astros che probabilmente arriveranno ancora confermando il gol dell'anno scorso però abbiamo parlato ancora degli sconfitti sappiamo che appunto Houston ha vinto 4-2 contro Philadelphia Philadelphia che fa un altro colpo secondo me sontuoso da quarta posizione in questa speciale classifica e parliamo di Trey Turner altro giocatore che è stato un po' sballottolato a destra e sinistra negli ultimi anni o meglio nell'ultima metà della stagione perché dopo una vita a Washington è andato ai Los Angeles Dodgers per perdere e non vincere il titolo a questo punto c'è bisogno di rilanciarsi anche per lui e Philadelphia in questa frecce si ha offerto un contratto faraonico all'Interbase che è un giocatore anche lui parecchio completo una delle superstar secondo me di questo gioco anche se secondo me più sottovalutato rispetto ad altri l'anno scorso Turner è vero che ha fatto 21 fuoricampo 300 di media battuta e 100 RBI ma è un giocatore che difensivamente sa fare tantissimo offensivamente l'abbiamo appena detto sa anche rubare le basi un giocatore clamoroso tra i Turner non capisco come sia molto sottovalutato rispetto a tutte le altre superstar di questo meraviglioso gioco che è appunto la Major League Baseball Turner ha firmato un quadrato anche lui di 11 anni esattamente come Xander Bogart spendendo leggermente di più 300 milioni per questa cifra appunto come sempre 2 lire ma per un giocatore che può dare secondo me quel salto di qualità a Philadelphia che può secondo me ripuntare tranquillamente a questi playoff perché il core delle superstar di Philadelphia è Schwarber Harper Real Muto 3 Turner e questi sono solo gli attaccanti giocatori di movimento non parliamo del Montellinancio che comunque l'anno scorso ha fatto grandi cose attenzione perché la National League East sarà molto interessante più degli altri anni perché abbiamo minimo 3 squadre competitive New York Mets ovviamente Philadelphia Phillies e ovviamente gli Atlanta Braves quindi attenzione già a partire dalle prime partite di aprile dell'inizio stagione siamo arrivati però al podio il podio che in parte va a prendere New York Mets e la terza posizione invece appalla di un giocatore che non si capisce dove doveva andare perché abbiamo avuto tanti rumor tante voci alla fine il giocatore si è deciso ed è rimasto dove era all'inizio Carlos Correa torna rimane ai Minnesota Twins al termine di una telenovela che è clamorosa perché Carlos Correa è andato a Minnesota per il progetto e anche per i soldi Correa aveva un'opzione di contratto per il quale poteva uscire e andare subito in free agency qualora la stagione fosse stata sotto le aspettative cosa che è successa evidentemente a Minnesota lo scorso anno è uscita la free agency Correa sembrava destinato ai San Francisco Giants fa le visite mediche con i Giants ma non passa le visite mediche per un problema i New York Mets si interessano al portoricano visite mediche anche con New York Mets assolutamente non in condizione anche in questo caso peraltro il contratto offerto a Correa è di 300 milioni quindi di certo cifre importanti per una sformazione sia quella dei Giants che i New York Mets che potevano e dovevano rinforzarsi alla fine sia Giants che Mets rimangono col famoso cerino in mano perché alla fine Correa accetta sì 300 milioni ma in sei anni per i Minnesota Twins infatti Correa prende più soldi rimanendo dov'è per una formazione che dovrà continuare a crescere la telenovela Correa è stato quello che mi ha fatto concludere virtualmente questa free agency perché dopo di lui di fatto cronologicamente non sono mai arrivati colpi incredibili però dal punto di vista significativo è importante selezionare come Correa sia un gran bel giocatore dal punto di vista offensivo al di là del vado ai Giants vado ai Mets forse rimango a Minnesota attenzione che magari si trince una quarta squadra insomma un casino incredibile ma comunque Correa può fare sicuramente bene ai Minnesota Twins certo bisogna vedere come si comporterà la formazione del Minnesota perché l'anno scorso è stata una stagione deludente rispetto alle aspettative bisogna vedere se ci sarà il salto di qualità anche quest'anno che è mancato l'anno scorso parliamo comunque di un giocatore che l'anno scorso ha fatto comunque 291 di media battuta 22 fuori campo 64 RBI quindi di certo non statistiche brutte certo non è il Carlos Correa che era decisivo a Houston per quanto riguarda il titolo del mondo ma attenzione perché sappiamo che il baseball è un gioco soprattutto mentale oltre che fisico e quindi la testa nelle condizioni giuste può far spostare addirittura una squadra intera se il tuo campione evidentemente ingrana la margia giusta a proposito di campioni concludiamo questa classifica con le ultime due posizioni se la medaglia di bronzo della mia top 15 frenesi 2023 è andata a Carlos Correa quella d'argento va a Justin Verlander che a 39 anni accetta un contratto biennale alla modica cifra di 87 milioni per i New York Mets Verlander ha accettato questa offerta di Steve Cohen e soci per essere appunto la seconda metà del duo terribile Scherzer Verlander abbiamo detto che la votazione degli Yankees è molto forte con appunto il duetto col Rodon beh ragazzi Scherzer Verlander per i Mets è la risposta alla votazione devastante dei New York Yankees almeno per quanto riguarda i primi due componenti certo che vedere una votazione con Verlander Scherzer Senga Carrasco e tutti gli altri lanciatori che possono arrivare evidentemente ai New York Mets che c'erano già l'anno scorso senza quello che è occupante la prima posizione di questa classifica fa riflettere come evidentemente anche quest'anno Steve Cohen voglia provare ad arrivare a questione che è una squadra vincente lo ha fatto quantomeno per la regular season non per i playoff dove appunto i Mets sono stati eliminati dai San Diego Padres adesso con gli investimenti fatti anche nei giocatori di movimento vedi per esempio l'ultima riconferma di Jeff McNeil attenzione perché i Mets sono da corsa anche quest'anno in una National League East che sarà un bagno di sangue come evidentemente l'anno scorso da tifoso dei Mets mi aspetto il salto di qualità almeno passare il primo turno dei playoff perché sulla carta la formazione appunto di Showalter è in queste condizioni va detto però che appunto il baseball è meraviglioso perché i posti come sempre vengono puntualmente sminchiati sperando che non venga sminchiato anche chi ha vinto la prima posizione della mia speciale classifica perché abbiamo detto i colpi Verlander e i compagnia sono collegati perché i Mets hanno preso Verlander perché la medaglia d'oro della classifica della mia top 15 freni su 2023 è Jacob de Grom che era un free agent di lusso anche lui non ha riconfermato il contratto con i New York Mets anzi è andato ai Texas Rangers squadra che in due anni ha fatto tre colpi incredibili perché Corey Seager Marcus Simien e adesso Jacob de Grom i Texas Rangers sono una squadra che comunque sta provando a tornare quella di un tempo vogliono provare a tornare quella formazione che è arrivata in finale due volte consecutive purtroppo perdendole ma era una signora squadra quella e con questo core possono provarci probabilmente non nell'immediato ma nel futuro l'anno scorso i Rangers hanno l'ho buttata su come stagione era una stagione andata a sud evidentemente le ambizioni partono dal 2023 perché ha un core di giovani su tutti ad Ollis Garcia c'è questo core di superstar Seager e De Grom su tutti De Grom ha avuto delle statistiche in realtà abbastanza discontinive l'anno scorso ma perché mezza sazione l'ha persa quando è tornato i Mets hanno fatto bene poi evidentemente si è assestato su una range di normalità ma il De Grom che conosciamo può essere un fattore che da solo sposta gli equilibri quindi grandissimo colpo dei Rangers nonostante io sia tifoso dei Mets lo sappiate era giusto mettere ovviamente Verlander secondo ma De Grom primo in questa classifica perché è un colpo che sposta tantissimo gli equilibri se De Grom è sano attenzione ai Rangers che possono garantirsi con Martin Perez e appunto De Grominant quello che è evidentemente il core per tornare grandi De Grom ha firmato un contatto di 5 anni 185 milioni evidentemente il giocatore della Florida concluderà la carriera ai Texas Rangers perché a fine contrattava 39 anni colpo clamoroso dei Rangers che hanno agito molto bene sul mercato e possono essere una squadra da seguire con attenzione quindi questa è alla fine la grande conclusione dal punto di vista dei nomi di questa free agency 2023 l'abbiamo visto in questa classifica una free agency che sicuramente ha spostato tanto gli equilibri e che non vedo l'ora di vedere in campo perché non ho mai visto tanti nomi spostarsi per tante squadre diverse il luogo che è rimasto alla fine di questa formazione di questa lista è Aaron Judge bisogna vedere ovviamente come anche lui performerà ma 14 spostamenti importanti su 15 hanno fatto sì che questo video uscisse già di fatto a febbraio in attesa che il baseball turni a tempo pieno sul mio canale e qui aumentiamo un po' la programmazione specifichiamola meglio perché parliamo della programmazione di marzo ci saranno i video del World Baseball Classic il mondiale di baseball se così si può chiamare dove ci sarà anche la zona italiana composta prevalentemente da italiani americani ma spiegheremo poi il regolamento del WBC ovviamente a inizio marzo in una care mess che si giocherà tra Asia e Stati Uniti e appunto centro e nord e sud America il baseball vero e proprio con la regular season tornerà ovviamente poco prima dell'inizio esattamente come torneranno anche i video di motori qui sul mio canale dunque a marzo due appuntamenti per il World Baseball Classic a inizio e a fine per fare un mega riassunto e poi pronti via con la regular season del meraviglioso gioco del baseball lo sport che evidentemente tutti noi appassionati amiamo e vogliamo raccontare fatemi sapere cosa ne pensate di questo video della Felice 2023 se ovviamente avreste aspettato altri colpi se vi sorprendono i colpi che ho elencato in questa classifica il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video